Il contenuto dell'articolo Pasta di Sul Sen Composizione cosa aiuta a incollare Sul Sena dalla caduta dei capelli per forfora con la psoriasi per l'acne pasta Sul Sena Istruzioni per l'uso Modalità di applicazione Controindicazioni Prezzo della pasta di Sul Sen Pasta Sul Sena Recensioni Per rendere i capelli spessi, morbidi, senza forfora, si consiglia di utilizzare pasta di Sul Sena L'uso di questo farmaco, che ha una composizione unica, Influenza favorevolmente i capelli Guarisce la pelle della testa e del viso Utilizzare lo strumento in modo corretto ed efficace aiuterà le istruzioni dettagliate presentate di seguito Pasta di Sul Sen Composizione Uno dei farmaci più efficaci e popolari per il trattamento e il rafforzamento dei capelli è la pasta di Sul Sen Sul Sen Questo rimedio universale combatte perfettamente la forfora, rimuove le cause di questo problema comune Il prodotto ha un effetto antisettico e antifungino sulla pelle, elimina efficacemente le cause della forfora e le conseguenze della Sua presenza, psoriasi, dermatite seborroica, la perdita di capelli Il principale ingrediente attivo nella pasta di Sul Sena è il disolfuro di selenio Il preparato contiene anche cetile, stearile, alcol alla cannella, glicerina, potassio ceterato fosfato, dmdm e dantoina, acido, citrico, profumo e acqua purificata Il prodotto è prodotto in provette da 40 e 75 millilitri Le principali proprietà della pasta di Sul Sen, aiutare a sbarazzarsi di forfora, prurito, disagio, prevenzione e cura dell'eccessiva secrezione delle ghiandole sebacee, effetto positivo sulla crescita, rafforzamento dei capelli, restauro, nutrizione dei follicoli, piliferi, rinnovamento cellulare del cuoio capelluto, rimozione di sostanze tossiche esogene che distruggono le radici dei capelli Punto e virgola prevenzione dello sviluppo della distruzione nell'area della crescita dei capelli Tornare alla salute dei capelli Lucentezza Morbidezza Cosa aiuta a incollare Sul Sen La maggior parte degli uomini e delle donne soffre di gravi condizioni del cuoio capelluto La preparazione al disolfuro di selenio affronta bene tali problemi Le principali indicazioni per l'uso di Sul Sen sono Fragilità e perdita di capelli Comparsa di forfora Psoriasi Seborrea e persino eruzione cutanee sul viso Di seguito puoi saperne di più sull'eradicazione di queste malattie con Sul Sen Per saperne di più tagli per capelli medi con frangia Acconciature da donna con foto dalla caduta dei capelli affinché la pasta Sul Sen Per capelli dia il massimo risultato Devi lavare bene capelli Il prodotto viene applicato esclusivamente su fili puliti Il farmaco viene massaggiato con leggeri movimenti di massaggio nel cuoio capelluto Con gravi focolai di calvizie La pasta di Sul Sen viene utilizzata in un volume maggiore Dopo 15 minuti Viene lavato via con acqua calda corrente Per qualche tempo dopo aver usato il farmaco Non è consigliabile trattare i capelli con balsamo Balsamo e fissatori per capelli Per forfora Giudicare dal gran numero di recensioni positive L'unguento di Sul Sen per la forfora è un rimedio molto efficace Normalizza il lavoro delle sezioni grasse del cuoio capelluto Ripristina bene i capelli a livello cellulare Elimina le sostanze Tossiche esogene che distruggono le radici dei capelli Dopo aver usato il farmaco con disolfuro di selenio I capelli diventano belli, lucenti, forti Istruzione Lavare accuratamente i capelli con shampoo e acqua calda Strofina delicatamente la pasta di Sul Sen sulla pelle Lavare dopo 15 minuti Ripetere queste procedure per 7-8 giorni consecutivi Per un risultato del 100% Con la psoriasi una malattia molto comune e grave I cui segni sono desquamazione del cuoio capelluto Un'eruzione cutanea rossa e prurito La psoriasi L'uso di un agente terapeutico con componenti utili Dà un risultato positivo nel 90% dei casi La pasta di Sul Sen per la psoriasi viene utilizzata come segue Lubrificare il cuoio capelluto con uno spesso strato di farmaco Mettere un sacchetto di plastica e un berretto Tieni una maschera del genere per 3 ore Dopo aver rimosso i resti del prodotto con le mani o un pettine Lavare i capelli più volte Usando un pettine per rimuovere la buccia rimanente Trappa la pelle con una crema oleosa, preferibilmente per i bambini Se dopo la procedura c'è una sensazione di disagio, sembrerà che la pelle sia tesa, quindi può essere usato olio di bardana Per saperne di più allenamento elissoidale dimagrante Un programma per uomini e donne per l'acne Un farmaco curativo è anche usato per il viso La pasta di acne sul sen deterge efficacemente la pelle La rende morbida, levidata e aggiornata Il prodotto lubrifica la pelle della testa, tienila per 15 minuti La maschera viene lavata via con acqua corrente calda Questa tecnica aiuta a sbarazzarsi di acne Acne Prima di iniziare il processo di trattamento, si consiglia di consultare un cosmetologo o dermatologo qualificato Pasta sul sena Istruzioni per l'uso I componenti della pasta si differenziano per funzioni specifiche Per questo motivo, può essere utilizzato solo in conformità con le istruzioni Di norma, in farmacia vengono venduti due tipi di preparazione Con contenuto di bisolfuro di selenio dell'1% o 2% Come applicare la pasta di Sulsen Una composizione con un contenuto dell'1% della sostanza di base viene acquistata per la prevenzione Viene usato due volte a settimana per 30 giorni Il corso preventivo ripetuto viene effettuato in 6 mesi, non meno La pasta al 2% di Sulsen è considerata un farmaco terapeutico Viene anche usato due volte ogni 7 giorni, ma la terapia dura 90 giorni Modalità di applicazione Esistono diverse regole in base alle quali viene utilizzato Sulsen Se non segui questi consigli, cioè c'è il rischio di aggravare la situazione e danneggiare i capelli Ottenere effetti collaterali Il principale metodo di applicazione della pasta di Sulsen Devi lavare i capelli in anticipo con lo shampoo L'acqua non dovrebbe essere troppo calda Pettine per capelli bagnati bene È meglio usare un pettine con denti rari, fatto di legno Applicare una piccola quantità di farmaco sulla pelle della testa Questo viene fatto con cura, senza intoppi, con delicati movimenti di massaggio Dopo 20 minuti, sciacquare la pasta di Sulsen con acqua calda corrente Ripeti la procedura tutte le volte che è necessario Per saperne di più cubi sullo stomaco Come pompare la stampa in una settimana controindicazioni C'è un piccolo elenco di motivi per cui è vietato l'uso di un farmaco terapeutico simile alla pasta Le controindicazioni incollano Sulsen in questo modo Gravidanza La pasta di Sulsen è vietata durante l'allattamento Allattamento Al seno Intolleranza individuale ai componenti di un agente terapeutico Prezzo della pasta di Sulsen Ognuna la possibilità di ottenere capelli sani, belli e forti Dopo aver speso un piccolo sforzo e finanze su di esso Dopo un paio di mesi, forfora, perdita di capelli, desquamazione della pelle sarà non ricordo del passato Puoi acquistare la pasta Sulsen a un prezzo accessibile in un normale chiosco farmacia O ordinare in una farmacia online con consegna Il prezzo di una provetta, 40 millilitri, con un agente terapeutico è di circa 30-50 rubli A Mosca e nella regione Una provetta, 75 millilitri, con una preparazione per capelli in Russia avrà un costo economico per il consumatore Nella quantità di 70-100 rubli Titolo fabbricante Prezzo Rubli Sulsen forte Sulsen forte Con cheto con azolo 75 millilitri Mirra 100 120 pasta Sulsen con climbazzolo 75 ml Mirro 90 100 pasta di Sulsen 75 millilitri Sweet amalgam 80-100 Et Un